Aria di novità in casa Margherita Granbassi. La campionessa olimpica, oggi collaboratrice di Michele Santoro nella trasmissione su Rai 2 Anno Zero, una partecipazione che le è costata tra mille polemiche e l'addio all'arma, pare aver trovato l'amore. Su chi compaiono infatti le sue prime foto insieme a Carlo Gero, 43 anni, manager che cura l'immagine di moltissimi sportivi. L'atleta, che si è distinta nelle ultime Olimpiadi di Pechino conquistando due medaglie di bronzo nel Fioretto, pare essersi innamorata proprio durante il soggiorno cinese. La nostra storia è sbocciata molto lentamente, dice, naturalmente l'importante è che sia nata. La Granbassi, generalmente schiva nel rilasciare dichiarazioni a carattere personale, oggi appare solare come non mai.